buonasera scusate il ritardo è stata una giornata come potete immaginare dal punto di vista dell'informazione giornalistica abbastanza complicato avevamo una notte passata a guardare cosa succede in Brasile oggi ha ragione non ci sono scuse avrei dovuto essere più puntuale da quando il direttore chiama quando il direttore chiama fai fatica a liberare no vi chiedo scusa davvero dicevo giornata complicata ma anche interessante perché perché come sapete c'è anche la presidente della commissione europea a roma e c'è stata questa mattina la presentazione di un libro altrettanto interessante non come quello di natalie tocci molto più interessante quello di natalie ovviamente però erano gli scritti di david sassoli un'occasione importante e in quell'occasione sono state delle cose a proposito dell'europa che io ho sentito con particolare attenzione perché credo che potranno essere oggetto anche del nostro dibattito di questa sera questo libro infatti nasce da studi lunghi e approfonditi di natalie tocci che non si è improvvisata diciamo così ecologista dell'ultima ora ma da tempo se ne occupa e cerca di dare diciamo così indicazioni e forse anche soluzioni per quella che è più importante delle sfide che sta affrontando l'europa e cioè la transizione ecologica che insieme al tema della demografia sarà il tema dei prossimi dei prossimi decenni inevitabilmente sulla demografia ci occuperemo un'altra volta oggi ci occupiamo della transizione ecologica perché ha già condizionato ma condizionerà davvero tanto le nostre vite a cominciare anche da quello che noi vediamo in inverno così caldo credo che non non se lo ricordi nessuno ehm prima di di cominciare a intervistare anche i nostri due ospiti ovvero eh l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descazzi qui alla mia sinistra e Stefano Grassi che invece è il capo di gabinetto di Cadri Simons che come sapete è la commissaria europea dell'energia una signora estone di grande figlio e polso ehm io però vorrei che Natali ci dicesse proprio due cose su su questo libro in realtà nell'introduzione lei già un po' spiega perché ha deciso di scriverlo e quali sono i motivi che l'hanno spinta però vorrei che voi lo sentiste direttamente dalle sue parole prego Natali. Grazie Flavia e grazie funziona sì e grazie di essere con noi oramai che abbiamo adottata come moderatrice degli eventi di AI e e volevo anche ringraziare Stefano che peraltro appunto finalmente riusciamo a rivederci e Stefano diciamo anni fa abbiamo lavorato insieme quando era capo di gabinetto di un altro commissario eh Bogherini e da un po' che non ci vediamo sono veramente felice e peraltro penso è la prima volta che che vieni qui qui in istituto e poi forse più di tutti volevo ringraziare Claudio eh perché in realtà non non per essere qua oggi non solo no eh no ma in realtà perché no no in realtà perché eh veramente sei stato eh tu e i colleghi dell'ENI una delle fonti di ispirazione e di insegnamento per questo libro e quindi in realtà diciamo è tutto quello che ho imparato da te in questi anni e e dai altri colleghi dell'ENI così come ovviamente altri studi che ho fatto che è un po' stato poi il motivo per cui l'ho scritto questo libro era stato un stato un so una sorta di voler ridare no quello che comunque ho ricevuto in questi anni quindi ecco ti volevo ringraziare per questo non per essere qua oggi e comunque prima che adesso mi scende la lacrimoccia e brevemente un po' la un po' il punto di partenza eh della storia diciamo in questo libro sostanzialmente è eh è un libro che si basa su tre premesse abbastanza come dire basilarie quindi la prima è che la transizione ci sarà non è la prima e non sarà l'ultima no ci sono state comunque transizioni dal legno al carbone dal carbone al petrolio e al gas ci sarà la transizione che vedrà la transizione a tecnologie diciamo decarbonizzate semplicemente perché è nell'ordine delle cose è il mercato è la tecnologia e il progresso che ci spingerà in questa direzione quindi premessa numero premessa eh numero due che effettivamente un'Europa verde è quello che dobbiamo fare perché ha un senso non soltanto perché è necessario da un punto di vista della crisi climatica e quindi far fronte alla crisi climatica ma ha senso farlo da un punto di vista economico ha un senso farlo da un punto di vista politico soprattutto pensando a il come l'Europa si riconnette eh ai cittadini e in particolar modo a eh nuove generazioni e ha senso farlo da un punto di vista strategico no basta pensare a l'ultimo anno e soprattutto appunto la guerra in Ucraina e e l'esserci resi conto del danno creato da la dipendenza da una fonte fossile in particolare che ovviamente è la Russia che ci dà un senso del perché comunque un'Europa verde ha anche diciamo una razio eh strategica quindi premessa numero uno questa cosa succederà premessa numero due questa cosa deve succedere premessa numero tre e qua inizia da arrivare diciamo come dire la parte più problematica più più critica che mentre come dire se è vero che un mondo è un'Europa verde in un mondo verde è un'Europa è un mondo meraviglioso e non ci si arriva domattina non ci si arriva domattina e quella che definiamo la transizione per certi versi quasi si avvicina a una rivoluzione nel senso che eh teoricamente i tempi in cui dovrebbe avvenire che stiamo parlando comunque di pochi decenni eh quindi la velocità la magnitudo e la complessità di quello che dobbiamo affrontare è tale eh che appunto una transizione può avere diciamo quasi dei connotati rivoluzionari e ogni rivoluzione ha vincitori e vinti e i vinti i perdenti i potenziali perdenti eh della transizione si faranno sentire eh si faranno sentire e questo rischia di creare tutta una serie di conseguenze che sono sociali economiche e quindi poi anche politiche e geopolitiche quindi diciamo qualcosa che ha a che fare al di fuori dei dei nostri confini che rischiano di essere innanzitutto che generano tutta una serie di rischi che potrebbero essere dannose eh e che potrebbero addirittura essere traumatiche e tutto questo diciamo non soltanto esistono questi rischi ma poi c'è il rischio che tutto questo se avviene quindi se è una transizione mal gestita e di fatto poi rischia di non avvenire nei tempi in cui ci siamo ci siamo detti e dettati quindi diciamo queste sono le tre premesse di di base alla fine il libro e adesso qua non entro ovviamente in dettagli eh cerca di sviluppare un po' queste tre premesse o le implicazioni di queste tre premesse in tre step abbastanza logici diciamo quindi quali sono queste potenziali implicazioni da un punto di vista interno dell'Unione Europea quindi diciamo il rischio di una eh soprattutto aumento delle diseguaglianze socio-economiche sia all'interno degli stati membri sia tra stati membri e quelle che sono le implicazioni o i rischi politici che questo può generare quindi l'aumento del populismo che poi assume caratteri diciamo di euroscetticismo quindi il rischio diciamo eh di una transizione mal gestita per l'integrazione europea il secondo step che è uno step sostanzialmente regionale quindi quali sono le implicazioni della nostra transizione sui nostri vicini e penso qua ci sono varie categorie ma penso in particolar modo a paesi che sono sostanzialmente paesi fragili paesi del nord Africa paesi soprattutto dell'Africa subsahariana quali sono le implicazioni della nostra transizione sul loro e poi quelle che sono le implicazioni globali e qui in particolar modo il fatto che eh in quella che oramai conosciamo essere la crescente competizione se non conflittualità tra Stati Uniti eh e Cina che assume sempre più connotati energetici no? Noi qua in Europa negli ultimi mesi abbiamo parlato in Italia molto poco avremmo dovuto parlare molto di più dell'inflation reduction act come qualcosa che crea dei problemi transatlantici ma diciamoci la verità è il vero motivo per cui gli Stati Uniti stanno andando avanti con l'IRA a che fare con la competizione con la Cina e quindi in che modo noi come europei ci poniamo no? Rispetto in termini energetici rispetto a questa crescente eh competitività e conflittualità così come rischio di una crescente competitività anzi conflittualità diciamo tra global north e south l'abbiamo visto un po' nell'ambito della coppia 27 queste crescenti tensioni. Vabbè diciamo che ho fatto abbastanza spoileraggio quindi a questo punto io mi fermo. No no eh in realtà eh sarebbero ci sarebbe talmente tanto da raccontare sulla transizione ecologica a partire per esempio dal termine che tu giustamente hai usato cioè il termine di rivoluzione perché eh quando si parla di rivoluzione eh si immagina anche qualcosa che avviene in tempi abbastanza rapidi al contrario di una transizione di fatto noi abbiamo una trentina d'anni eh più o meno no? Eh quello che sono i tempi che ci siamo dati che eh è un tempo lunghissimo per immaginare una una rivoluzione ma è in realtà brevissimo se poi facciamo riferimento a quello che è invece davvero il cambiamento che siamo chiamati a mettere in atto e ehm io vorrei partire proprio da qui e quando vi dicevo che una delle tante suggestioni che sono arrivate questa mattina dalla presentazione del libro di di Sassoli mi aveva colpito era in particolare eh una insistenza sulla possibilità di incidere sull'Unione Europea sul cambiare le modalità dell'Unione Europea fatta da Romano Prodi Romano Prodi a un certo punto ha detto chiaramente che secondo lui l'Unione Europea così con me non può continuare a funzionare che è necessario eh passare a un sistema di eh decisione che non sia più all'unanimità perché l'unanimità sostanzialmente blocca eh quelle che sono poi le decisioni e al contrario di ciò che sembra cioè un sistema che sia massimamente democratico in realtà invece danneggia ehm chi diciamo in proporzione no avrebbe più diritto di dire la propria allora io eh partirei proprio da qui perché se non non affrontiamo prima quelli che sono i meccanismi decisionali poi secondo me facciamo fatica ad arrivare a a comprendere bene e a e a mettere come dire a terra come si dice eh le politiche energetiche e allora vorrei capire se eh questa questa possibilità perché nella nel corso dei trent'anni eh ci sarà sicuramente chi vorrà rivedere eh i piani che sono stati messi in atto eh chi li metterà in discussione di nuovo chi li contesterà come di fatto già è avvenuto in questi due anni e quindi vorrei partire da qui cioè da da mi chiedo a Gassi se ci se ci aiuta a capire la struttura diciamo di questa dell'impianto che è stato disegnato per questa rivoluzione per questa transizione energetica quanto è solido quanto è modificabile e eh in che maniera è modificabile grazie grazie ancora per l'introduzione buonasera a tutti e soprattutto grazie all'OIAI e a Natalie per questo invito eh mi permette di rinnovare un'amicizia a distanza ma profonda che ci lega ai tempi della Global Strategy dell'Unione Europea è un dialogo che non si è mai interrotto e devo dire che ho letto il libro di Natalie eh con grande piacere eh perché in ogni pagina in ogni parola ritrovo l'eco della sua eh del suo sentimento europeo della sua eh della sua vivacità intellettuale e della sua brillantezza ma anche perché in ogni pagina abbiamo ritrovato in effetti eh tutti i vari snodi del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi tre anni, tre anni e mezzo e quale abbiamo contribuito probabilmente in parte minore ma che visto retrospettivamente ha una ha una dimensione e una scala effettivamente impressionante sia dal punto di vista dello sforzo legislativo sia dal punto di vista dello sforzo di policy e devo dire che Natalie eh dimostra una grande capacità di avere familiarità anche con concetti che forse sono più estranei alla formazione delle relazioni internazionali e che lo fa con grande precisione con una grandissima informazione veramente molto piacevole ripercorrere le pagine del libro però se devo rispondere alla sua sollecitazione eh leggendo il libro di Natalie eh effettivamente ehm vengono fuori alcune riflessioni scomode su quello che è il Green Deal e quello che è l'azione del mio europeo e della Commissione europea io non vi racconto oggi una versione ufficiale della Commissione europea che vengo a titolo personale però vorrei soffermarmi proprio su questi punti scomodi alcuni di questi hanno effettivamente una eco e un collegamento con quanto anch'io ho potuto ascoltare stamattina alla presentazione del eh del libro che raccoglie l'intervento per esempio Sassoli e il primo riflessione scomoda che Natalie fa è il legame tra il Green Deal l'agenda del Green Deal e la legittimazione dell'Unione europea come progetto politico perché eh Natalie fa un un collegamento molto chiaro tra l'agenda del Green Deal ha detto anche ora è la cosa giusta da fare e l'ambiente il contesto in cui nasce un'Europa debole e delegittimata alla fine della Commissione Juncker indebolita dalla reazione eh parziale eh incompleta eh spesso giudicata anche eh insufficiente o addirittura assente a due grandi crisi quella economica e finanziaria e a quella dell'innovazione quindi Natalie ha il coraggio rispetto a tanti altri volumi che ho visto di inserire il Green Deal in questa sua genesi in questa crisi e di dimostrare direi in modo molto convincente che il progetto del Green Deal è un progetto che ha la capacità in quel momento di offrire all'Unione europea una nuova storia da raccontare un nuovo punto di partenza eh un nuovo modo di riconnettersi con quella che è la priorità numero uno dei cittadini quella che è la priorità numero uno delle generazioni che è riflessa in un'ondata elettorale alle elezioni europee del duemila quattordici ma di legarla anche a un'agenda di crescita a un'agenda strategica e eh e quindi a un'agenda che può diventare il programma politico convincente in più un'agenda positiva rispetto alle altre europe che io eh insieme a Ferdinando Nelli Feroci o ad altri abbiamo vissuto non era l'Europa dei veti l'Europa delle costrizioni l'Europa delle regole è un'Europa che attraverso il legame tra Green Deal e Next Generation Europe è l'Europa della solidarietà è l'Europa della visione della crescita futuro però Nathalie dice una cosa molto scomoda che questo legame e questa grande chance di rigenerazione dell'Unione europea è una chance che ha successo se il Green Deal ha un successo economico cioè se si dimostra capace di costruire crescita di costruire occupazione di offrire reali opportunità di prosperità e di competitività economica all'economia europea in una forma il più possibile equilibrata su tutto il continente europeo evitando quelle disparità e questo è eh mi chiedeva lei che cosa di questa agenda oggi è sottoposta a sollecitazioni e stress questo è il primo punto perché eh noi poi tornerò su sulle altre due o tre elementi scomodi se non siamo capaci nei prossimi due anni di dimostrare anche di fronte a quello che è la crisi della transizione energetica e dei prezzi di energia che questa agenda è capace di produrre crescita è capace di produrre una rigenerazione industriale di tutte le supply chain delle tecnologie pulite in Europa è capace di favorire il riorientamento e la rindustrializzazione di aree che altrimenti avrebbero poche chance di sopravvivere se non e qui entra tutto il dibattito se evitiamo di essere un'area con dei prezzi dell'energia elevata stretta tra due aree Cina e e gli Stati Uniti l'uno perché ha scelto altri percorsi di transizione gli Stati Uniti perché sono un produttore di energia con dei costi comparativi molto diversi per il loro sistema industriale eh l'economia europea e l'industria europea non avrà quindi il grande banco di prova se vogliamo che il grandizia convincente e nei prossimi mesi mettere in focus molto chiaramente la competitività dell'industria della dell'industria delle tecnologie pulite e in generale dell'industria manufatturiera europea e la spingo ancora di più su questo su questo punto perché eh la guerra in Ucraina eh è stata come dire la prima grande pietra d'inciampo quando è stato varato il Green Deal non si parlava ancora di guerra poi ci siamo trovati a dover affrontare questa catastrofe che ci ha messo di fronte per l'appunto a eh una necessità di accelerare tutta una serie di processi e di recuperare elementi insomma petrolio gas e tutto quello che ci serviva e che di cui ancora abbiamo bisogno perché non eravamo ancora autonomi e grandi e eh eh in questo come dire la flessibilità dell'Europa eh all'inizio se non altro è un po' vacillato ecco ehm visto che per sua stessa ammissione non è qui in veste ufficiale ci racconti qualche cosa di più su questo che ci incuriosisce molto e secondo me incuriosisce anche chi ci ascolta molto volentieri perché può essere la chiave di volta per poi andare a vedere dove dove sta chi toglie il mattoncino per entrare molto volentieri e lei ha ragione è la chiave di volta però per forse essere anche io in qualche modo scomodo io non credo che la crisi eh legata al conflitto in Ucraina sia stato un inciampo per i grandi credo al contrario che sia stato un acceleratore e probabilmente un elemento di consolidamento fondamentale che lei la vede alla cinese cioè la crisi in realtà è qualche cosa che ti sollecita ad andare avanti no perché io credo e qui ripeto non non citatemi che nella sua versione originale eh l'agenda del Green Deal era pensata con una forte influenza intellettuale impronta intellettuale delle politiche climatiche e dell'idea di una visione di un decarbonizzazione dell'Unione Europea dentro un continente solo dentro un contesto internazionale che rimaneva sostanzialmente multilaterale e relativamente con conflitti a bassa intensità ma nel quale gli altri dovevano essere convinti per via di esempio per via di eh di persuasione eh di procedere nella stessa direzione ma nel quale l'Unione Europea e noi abbiamo spiegato questo lessico era front runner, fresh mover, was leading the way e c'era un elemento costruito su degli obiettivi, dei target a medio eh lungo termine dietro al quale a traino doveva arrivare tutta l'economia reale, tutti i settori che era in parte nasceva da una visione eh molto ottimistica e il confronto di questa agenda prima con la crisi del covid e la capacità di agganciare questa agenda ad una crisi più generale e poi la capacità di includere dentro l'agenda i temi della sicurezza energetica secondo me ha portato a dare un elemento di di pragmatismo e qui voglio citare eh Natalie a portare dall'Europa verde eh dalla narrativa dell'Europa verde alla alla narrativa dell'Europa della transizione che è una cosa relativamente diversa e che secondo me ci ha portato a ampliare molto gli strumenti nel nostro nel nostro cassetta degli attrezzi le politiche e anche guardare a tutto il novero delle fonti di energia e mh cerco di essere più sintetico ma per esempio secondo me la eh la crisi eh determinata da dalla dal conflitto in Ucraina eh ha portato finalmente l'Unione Europea a guardare in modo diverso e più concreto le relazioni con tutto il vicinato non solo quello eh del balcanico e soprattutto del corridoio sud e dell'Azerbaijan ma anche del vicinato del Mediterraneo ci ha permesso per esempio eh di costruire delle relazioni di partenariato con alcuni dei paesi della sponda sud finalmente particolarmente l'Egitto ma anche l'Algeria paesi tra l'altro eh amministratore delegato De Scalzi conosce benissimo è di cui è stato probabilmente la pripista dell'azione europea eh però con questi paesi prima avevamo un dialogo inesistente o o o molto di reso difficile un po' dalla supponenza di presentarci con ricette di decarbonizzazione che a loro apparivano distanti, irreali e un po' ipocrite e quando riusciamo a impostare la relazione dicendo abbiamo una relazione a 360 gradi, abbiamo una relazione che parte dalla relazione sul gas, sull'oil ma che a medio termine deve evolversi verso le rinnovabili, verso eh possibilmente in futuro eh forme di 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 gas rinnovabili o di idrogeno, si apre al contenimento delle emissioni di metano con forme concrete di collaborazione, abbiamo uno strumentario molto più secondo me pragmatico e completo con cui possiamo interagire eh interagire con questi paesi, abbiamo avuto un memorandum eh di di understanding con Egitto e con Israele, abbiamo stiamo lavorando con l'Azerbaijan, siamo andati, abbiamo riattivato il dialogo con l'Algeria e con molti altri paesi seguiamo questa cosa. Quindi mentre prima l'idea di un di un Green Deal solo in Europa che doveva portarsi gli altri trascinati magari rischiava anche di creare qualche attenzione tra Green e Brown Economy e probabilmente c'è all'inizio anche molto isolato sul piano internazionale, oggi avendo portato dentro la sicurezza energetica e capito che per la nostro sistema energetico eh abbiamo bisogno di una serie di fonti di energia per il prossimo decennio e oltre secondo me ci dà una piattaforma eh migliore. Quello che volevo però eh aggiungere brevemente è che quello su cui ci dobbiamo è l'ultima riflessione scomoda che volevo citare è che eh dobbiamo abituarci se vogliamo entrare nell'idea di una Green Transition che non non siamo più eh siamo dentro un sistema competitivo dove in un modo o negli altro tutti si sono dati più o meno una certa direzione di marcia ma con strumenti, tempi e ritmi molto diversi e la competizione sulle tecnologie sui eh sui critical minerals su molte cose sta diventando eh estremamente eh non solo eh 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 pilsa ma non solo molto vivace ma anche spietata ma anche molto visibile e su qui sono d'accordo con con Nathalie eh la politica energetica l'energia che prima era diciamo un elemento geopolitico fondamentale ma tenuto sotto traccia adesso è chiaramente diventato uno degli elementi più visibili del confronto internazionale e forse noi qui chiudo non siamo così equipaggiati per per lottare in un mondo competitivo perché a noi piaceva probabilmente il mondo della diplomazia climatica in cui avevamo una leadership perché gli altri erano assenti o perché essendo molti negoziati multilaterali con l'Unione Europea siamo ben attrezzati quando dobbiamo andare a combattere paese per paese su quote di mercato su su eh penetrazione delle nostre imprese eh produttrici di tecnologia eccetera beh il gioco è molto diverso e qui chiudo con la riflessione che che oggi alleggiava nella nella sala del del teatro Quirino effettivamente eh quello che noi vediamo è che l'elemento di una politica estera comune europea molto debole con con numeri molto limitati di staff risorse anche finanziarie molto limitate disperse su tanti obiettivi è un po' un limite a una politica energetica internazionale perché quello che deve imparare l'Unione Europea è che se poteva sopravvivere come entità introversa a cui poteva risolvere i problemi dentro un mercato interno oggi non è assolutamente vero non c'è successo in nessuna politica interna se non c'è una politica estera convince e se noi non risolviamo questo o attraverso strumenti decisionali e di governance o attraverso un investimento diverso nelle risorse finanziarie umane nell'approccio eh credo che avremo degli anni difficili davanti questo è sicuramente vero una riflessione sì credo insomma importantissima e interessantissima che ci porta a questo punto ad andare a parlare con il signore del gas non solo non no beh però insomma in questi ultimi mesi è stato quello che andava a cercare le risorse in giro per il mondo e anche chi non la conosceva ha fatto la sua conoscenza e venivano accolte con insomma un grande giubilo tutte le notizie di nuovi accordi firmati siglati stretti e quant'altro eh dopodiché eh è indubbiamente vero che insomma ehm c'è ci sono stati momenti anche abbastanza tesi io ricordo quest'estate quando si discuteva della tassonomia e eh immagino sappiate eh di cosa si tratta ovviamente ehm e e di quanto ci fossero spinte molto forti perché ehm il gas fosse compreso e fossero comprese non parliamo ovviamente del nucleare eh anche di quello si discuteva e di come questo questo però questa discussione non faccia minimamente parte ancora in realtà se non proprio in modo marginale di quello che è il dibattito pubblico italiano ehm preparando la 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 questa la la presentazione di questo libro eh una sera ho visto una pubblicità per l'appunto dell'Emi che mi ha colpito eh ho capito ogni tanto si fanno delle pause alzo gli occhi e passa questa pubblicità dell'Emi che dice non ho la ho divide noi eh siamo per la e per l'Emi no e eh eh cercava di convincere chi guardava quello spot che insomma si devono tenere insieme tutti gli elementi eh io ho pensato a gli ecologisti che avete tirato fuori anche il carbone con insomma qualche qualche anche qualche ragione insomma nel dire no doveva esserci la transizione ecologica e siete andati a recuperare persino le miniere di carbone che avevamo e quindi eh avendo la possibilità di parlare con lei mi piacerebbe capire quanto diciamo così questa è effettivamente diciamo così un tentativo di ehm diciamo rassicurare eh chi chi vive proprio sulla propria pelle questa transizione ecologica eh o eh effettivamente diciamo così un programma ehm che ci permetterà di passare da una soluzione all'altra senza troppi scossoni non non mi riferisco ancora ovviamente alla situazione internazionale parto dalla nostra situazione italiana eh nazionale poi arriveremo anche a quello che succede fuori perché a un certo punto sulle soluzioni proposte per come per come prendere per come riuscire a sì sì no la capisco perché poi subito dopo la porterò al di là del del Mediterraneo fra la Libia e l'Algeria perché anche lì eh Nata gli dà delle indicazioni nel suo libro su come trattare questi stati ma mi piacerebbe sentire la sua opinione grazie grazie anche grazie diciamo che non c'è una situazione italiana non possiamo parlare dell'Italia senza parlare dell'Europa e del mondo come l'Europa non può parlare di se stessa senza parlare del mondo perché altrimenti arriviamo dove siamo arrivati adesso e anche devo dire che non ci vuole sarebbe molto meglio che non ci volesse una guerra per renderci conto che dobbiamo considerare altri elementi questo è fondamentale la cosa che poi vengo al e o e eh lo dico subito o è esclusivo esclude le include e siccome non possiamo lavorare in modo monocromatico monodimensionale ci vogliono più dimensioni e quando e siccome Natali parla di perdenti e di vincitori e questo è o o e perché se l'Europa fa qualcosa di positivo lo deve fare per tutti non devono esserci i perdenti e i vincitori l'Europa deve guardare a tutti questo è chiaro prima che l'Europa non è uno stato non è neanche una federazione e noi ci confrontiamo a livello di competizione con degli stati gli Stati Uniti federazioni ma sono uno stato sono gli Stati Uniti la Russia la Cina gli unici che sono come noi sono l'Africa perché c'è l'Unione Africana ma sono tanti stati l'Europa ha fatto qualcosa di doveroso e eh Natalie l'ha detto perché tutte le transizioni sono transizioni che sono state guidate dalla tecnologia dai cambiamenti tecnologici ma non da una volontà politica e hanno sono durate diciamo per affermarsi ci hanno messo 60 70 anni il carbone ci ha messo 60 70 anni per arrivare al 50 per cento il petrolio nello stesso periodo è arrivato a meno del 40 il gas nello stesso periodo nello stesso time frame è arrivato al 20 24 per cento il carbone ancora il primo prodotto in termini di produttore di elettricità le rinnovabili in 25 anni a livello energetico sono arrivati neanche al 3 per cento a livello elettrico a livello mondiale all'8 per cento quindi l'Europa ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto che non sta facendo io leggendo il suo libro o leggendo il suo libro di Natalie o lo dicevo a lei ma non ne so non è un complimento ma è anche un complimento ho capito meglio l'Europa e ho capito anche meglio la mossa che l'Europa ha fatto prendendo la bandiera ambientalista giustamente per riempire dei vuoti ma capendo che differentemente dal passato questa transizione non può essere guidata solo da fatti tecnologici quindi non può essere un bottom up deve essere un top down cioè bisogna dare dei tari che abbiamo davanti poco tempo abbiamo un budget diciamo di capacità di assorbimento di energetica carbonica in atmosfera limitatissima e quindi possiamo creare andare verso un disastro se non siamo guidati quindi l'Europa ha preso questo il volante in mano ha dato questa questa direzione questo è stato è fondamentale fondamentale perché prima c'era poco ha avuto un qualcosa di importante ha dato degli obiettivi adesso continua a rilanciarli questi obiettivi al 2030 nel 40 al 2050 al 2030 continua a rilanciarli però c'era un però il però che è diventato quasi questa necessità di guidare questa leadership improvvisa dell'Europa che purtroppo si scontra con degli stati che hanno un mix energetico differente che hanno fatto strade lo dici anche tu che hanno fatto strade lo dici tu nel libro se forse ho letto altri libri ma eh no che hanno fatto strade sì perché non ho letto questo ho letto altri libri non ne ho scherzo ho letto il suo libro più volte eh che hanno fatto strade differenti hanno scelto delle politiche delle strategie differenti il sud dell'Europa è fatto di gas rinnovabili il centro nord al nucleare al alla parte wind diciamo molto l'eolico molto forte al carbone in modo esuberante all'idroelettrico quindi ha un mix energetico che gli permette di sopravviare la parte della Germania che ha fatto una scelta forte sul gas e sul gas russo e quello e quello norvegese quindi data su due modalità però l'Europa in tutto questo movimento che doveva essere che doveva scardinare un qualcosa che normalmente è nato sempre tecnologicamente dal basso e ci ha messo tempo a farlo in pochissimo tempo e ha fatto una cosa secondo me assolutamente importante però non deve essere una cosa che esclude deve essere una cosa che include perché ma diciamo che sono già stati toccati questi punti perché non possiamo pensare che tutto possa basarsi solo su una transizione o su un cambiamento e quindi su un climate change una transizione fatto sulle rinnovabili perché avevamo un sistema di infrastrutture e di stratificazione di energia che si è accumulato è stato additivo nel tempo il petrolio non ha mai sostituito il carbone il gas non ha mai sostituito il petrolio e nei gas e petrolio ha sostituito cioè nei gas e petrolio ha sostituito il carbone neanche il nucleare ha sostituito nulla sono stati additivi perché la demografia aumenta aumentano le necessità energetiche e siccome l'uomo l'essere umano pensa di di stare meglio non di stare peggio cerca di utilizzare tutto quello che ha a disposizione ora pensare che noi possiamo sostituire tutto lo come stiamo accelerando sulle rinnovabili in una maniera incredibile per vedere per vendere energia elettrica rinnovabile ma non riusciamo solo con questo quindi tutto quello che non si riesce a raggiungere non deve essere solo deve essere considerato ma come un'ottica di decarbonizzazione quindi riuscire a catturare la parte negativa dell'energia che è la co2 o comunque in generale i fugitivi di metano la co2 tutto quello che sono le polveri sottili ossidi biossi tutto quello che è nocivo ma senza dire non si può fare perché noi fino a ottobre cioè ottobre 2021 si diceva ancora a livello di di iea e a livello anche europeo devo essere interrotto a come devono essere interrotti completamente gli investimenti nella parte gas stream gas non si parla di carbone ma era ovviamente implicito il fatto del carbone dopo tre mesi si è aumentare gli investimenti nel gas perché non ce la facciamo solo con le rinnovabili allora questo fatto di escludere tutto solo una cosa per spingere e farlo diventare un fatto ideologico quando la tecnologia non è un'ideologia non è una religione solo diventa vuol dire che siamo diventati pazzi noi dobbiamo far diventare la religione una religione quello che ci fa bene quindi che ci siano le energie verdi che ci sia la decarbonizzazione e che ci sia una comprensione che l'europa è fatta da tanti paesi con modalità e mix energetici differenti non si può escludere il sud non si può escludere l'est europeo pensando che poi l'europa sotto un sia un sotto insieme di euro di paesi centro nordici questo è fondamentale perché se si sente questa esclusione quindi l'ho e non l'e poi c'è una disaffezione c'è una 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 mancanza di effezione una mancanza di capacità di collaborare per ottenere l'obiettivo che l'europa vuole e quindi si attiene l'obiettivo contrario perché se alla cambiamento cioè alla transizione diciamo ambientale ecologica non si unisce anche la sicurezza energetica perché dobbiamo vivere ma non si unisce anche la competitività la nostra industria si atrofizza si sta atrofizzando perché non c'è competitività siamo arrivati a pagare fino a otto volte adesso paghiamo cinque volte sei volte l'energia rispetto agli stati uniti questo e c'è questo questo gap che continua a esserci e l'energia dall'energia poi nascono le infrastrutture nasce nasce tutta la parte sanitaria nasce l'educazione nasce tutto se non hai energia non puoi alimentare tutto l'alimentazione non puoi alimentare gli altri settori quindi il fatto della sicurezza energetica vista anche come competitività del mercato e dell'industria europea è fondamentale non solo italiana l'italia sta un pochino meglio del resto d'europa come diversificazione sul gas però siamo facciamo parte del tutto e se vengono definite delle regole parlo della per esempio della tassonomia che è stata che è stata eh che è stata detta se definisce delle regole una tassonomia dei limiti che rendono impraticabili l'utilizzo di certe industrie e dopo uno dice ma cosa sta facendo allora questo deve essere allora diciamo c'è voluto una guerra per rendersi conto di questo ce ne siamo resi conto speriamo che non ci sia non ci vogliono ogni volta delle guerre per renderci conto dei pezzi mancanti perché vuol dire che a livello politico la visione non è penetrante è superficiale quindi questo deve rimanere assolutamente assolutamente definito nella mente di quelli che sono poi policy maker di fronte al fatto energetico non c'è politica c'è un'energia che fa bene un'energia che fa male in quel caso bisogna escluderla ma per il resto bisogna accompagnarla quindi c'è il discorso della della transizione l'inclusione di quello che al di fuori dell'europa allora e questo è un altro fatto che abbiamo detto sicurezza energetica non è mai stata considerata né a livello italiano né a livello europeo perché erano tranquilli il nostro la nostra flessibilità era la russia bisogna anche pensare che vent'anni fa 30 anni fa si diceva che in europa avremmo consumato circa 100 miliardi di metri cubi in meno al 22 e in italia mi sembra 25 meno abbiamo scoperto che il consumo di energia che viene da gas è una diciamo è inelastico noi stiamo consumando in europa quello che consumavamo presto poco 15 anni fa circa 400 miliardi di metri cubi all'anno in italia andiamo dai 72 78 quest'anno faremo 68 perché abbia fatto restrizione nell'industria hanno hanno ridotto e si è crea si è creata anche efficienza ma appena si ritorna una volta quindi e non solo l'industria molto anche i privati nel 2000 si consumava si consumavano due miliardi si consumano 2000 miliardi quindi due giga di metri cubi di gas la proiezione ad arrivare a due 5 adesso siamo arrivati a livello mondiale a 4000 miliardi di metri cubi di gas quindi le proiezioni fatte che ponevano la riduzione di gas quindi la riduzione è molto un aumento che si era doppiato a livello mondiale ora questo sono dati che devono essere letti e guardati perché se poi si escludono si arriva al punto dove siamo adesso otto anni di sotto investimenti e quindi un dei prezzi che sono altissimi prezzi perché poi alla fine il mercato che comanda si possono abbassare solo se l'offerta è superiore o equipollente alla domanda ma se costantemente inferiore l'offerta alla domanda i prezzi non tenono a salire gli stati uniti non hanno questo problema hanno dei prezzi del gas che sono un quinto dei nostri perché sono autosufficienti hanno una politica rigorosissima di sicurezza energetica l'europa che non ha una propria produzione o bassissima sul gas rappresenta il 25 per cento qualcosa del genere non ha 18 15 era quando io sono mi ricordo quando ero piccolo allora noi siamo 15 pensiamo su 400 miliardi che utilizziamo ne produciamo però c'è anche la nuova dentro nel contesto c'è molto meno si c'è perché sono 150 miliardi diciamo però con la norvegia e anche con gli uk quindi l'europa anche molto meno ecco non ci siamo mai occupati di avere una sicurezza energetica pensavamo che non ci vuole non servisse e non c'è questo questo punto all'ordine del giorno perché le sovvenzioni il cap sul sul prezzo del gas benissimo fa aiutare a fare sussidi ma le energie sono non sono infinite e sono sono dei dei cerotti che mettiamo perché strutturalmente siamo in deficit di quella energia che la domanda sta richiedendo che in questo caso il gas perché non riusciamo a soddisfarlo con le altre forme quando si dice il green deal la guerra ci ha insegnato che ci vogliono più rinnovabili ahimè no perché abbiamo uno uno span di tempo per utilizzare rinnovabili limitatissimo nella giornata limitatissimo poi quando è inverno in certe geografie in certi in certe geografie europee che non ce lo permettono e quindi dobbiamo riuscire a diversificare le fonti di energia cioè le tecnologie ma anche i paesi al di fuori dell'europa e al di fuori della russia che ci possono dare veramente una mano scoprire adesso il nord africa o l'africa è un problema scoprirlo adesso perché lo scopri troppo tardi stai inseguendo non sei avanti non hai non hai anticipato il problema lo stai seguendo perché c'è stato un disastro incredibile ma già prima del disastro i prezzi erano più alti di quelli che sono in questo momento perché c'è un vero caldo terribile anche qua dentro caldissimo si è quasi sprecato un sacco di soldi comunque non so se ho risposto hai risposto in parte anche se a me restano ancora alcune curiosità per esempio io vorrei capire se al termine di questa transizione ecologica quindi per come la vede lei in realtà ci sarà un addio ad alcune fonti di energia o non ci sarà perché questo è tra 10 15 20 anni mi sarà completamente diverso la speranza ma la speranza secondo me molto solida intanto che il carbone dovrà scomparire il petrolio scomparirà ma siamo a macchia d'olio perché nei paesi oicidi in europa probabilmente sì non so cosa succederà in asia oppure in africa dove dei paesi i paesi che hanno le loro energie primarie quindi petrolio e gas faranno fatica adesso noi stiamo e noi non ci possiamo permettere di dire sono fatti loro perché abbiamo capito che siamo tutti interconnessi e non ce lo possiamo permettere e la domanda però a questo punto è saremo comunque competitivi cioè loro con le loro fonti energetiche e noi con le nostre saremo comunque competitivi perché la differenza della tecnologia ecco la tecnologia è quella che fa fare il salto le tecnologie le tecnologie reali che ci faranno fare un salto di qualità devono ancora nascere o diventare a un livello di industrializzazione non ci sono ancora devono ancora o ci sono ma in embrione a livello d'accademia ma non ancora sviluppate il salto purtroppo non lo possiamo fare con una solo con le rinnovate non lo possiamo fare solo con l'idrogeno che è una metano equivalente molto più fuggitivo ci devono essere delle dei salti di qualità tecnologico che poi possono essere la fusione ma ce ne sono altri che permettono di riuscire a produrre energia con un fee stock quindi con una sorgente che tutti hanno e che non costa perché il problema vero che poi diventa anche un dominio politico geografico politico che non posso dire geopolitico perché non vuole la coci politico una sberla quando altro geopolitico quindi diciamo un dominio politico e geografico va bene ecco perché l'energia diventa anche poi un anno dedicato quindi io penso che lo sviluppo tecnologico avrà una una diciamo una moltiplicazione velocità importantissima l'europa ha fatto bene a spingere deve spingere sugli obiettivi ma non sulle tecnologie da utilizzare perché le tecnologie poi è il mercato sono i centri di ricerca che le fanno nascere e lì dobbiamo dargli la grandissima libertà finanziarli dargli la libertà e promuovere le start up che le sviluppano perché è lì che si fanno i grandissimi salti tecnologico dal punto di vista energetico quindi questo quando uno pensa alla tassonomia deve avere una una grande ventaglio di possibilità e non limitarci questo è un punto fondamentale proprio per poter dare spazio sempre in funzione dei vincoli quindi mi sembra di capire che però quella che c'è adesso non la soddisfa io a me soddisfa tutto io sono contentissimo di tutto l'importante è poi riuscire a fare le cose diciamo tutto quello che c'è come norme non è quasi mai vincolante nel senso che poi si riescono a fare le cose bene rispettando le norme e lo stiamo dimostrando con degli sforzi tecnologici importanti va bene va benissimo è chiaro che non sono preoccupato della tassonomia sono preoccupato di chi pensa la persona tassonomia senza entrare in profondità e con ampiezza sulle scelte che deve fare ma lei la rivedrebbe la discussione sul nucleare allora come italiano abbiamo fatto due referendum non riusciamo a mettere dei pannelli solari in modo penso che faremo molta fatica a mettere degli impianti di fissione l'italia è contro abbiamo dei time to market sullo rinnovabile di 4 5 anni figuriamoci sul nucleare e sarà pronto il nucleare quando avremo raggiunto nel 2050 il net zero quindi non lo so sulla fusione sì perché non è fissione quindi è un processo completamente diverso su quello sì ma non è che sia contro la fissione ci sono posti dove si può fare posti dove non si possono fare in francia si possono fare stati uniti in cina in germania in giappone ovunque si possono fare quindi no dico lì e lì dico li facciano pure è chiaro bisogna andare sulla terza quarta generazione modulare con tempi cioè utilizzando dei materiali adattivi che hanno tempi di cadimento molto inferiori però anche i migliori impianti producono delle scorie adattive che quindi poi bisogna essere in grado di poter prendere trattare e questo è un altro punto interrogativo però è chiaro che di fronte a un discorso emissioni la fissione va molto meglio del carbone la faccio riposare un attimo e ritorno invece dal nostro rappresentante europeo perché c'è un altro tema che credo vada assolutamente affrontato e cioè quello a proposito di perdenti di vincitori e perdenti o comunque insomma del fatto di dover far vincere tutti e far stare bene ecco in italia sicuramente con gradi diversi anche nel resto del continente europeo diciamo che è nata nel suo libro ne parla ne facendo quando quando anzi proprio all'inizio quando quando raccontano di come lei ha cominciato quando l'europa era praticamente al suo all'apice dei giorni più più belli dell'europa e prima che affrontasse tutta una serie di crisi dicevo c'è la questione della fiducia cioè adesso quando in italia quando io parlo di provvedimenti che sono stati decisi dall'europa so che avrò una buona parte di chi mi ascolta che pensa che non si fida che l'europa chissà che cosa sta organizzando alle sue spalle che comunque per lui sarà un danno e a maggior ragione per una questione come questa credo che vada sicuramente affrontata perché è vero la tecnologia la ricerca gli investimenti però se i cittadini per primi se gli europei per primi non aderiscono diciamo così a questo patto e a questo progetto questo progetto non andrà da nessuna parte e allora mi piacerebbe capire se si è riflettuto anche su questo su questo aspetto quali sono come dire le risorse che sono state messe in campo e le armi che sono state messe in campo se di armi vogliamo parlare per contrastare per diciamo risolvere questo problema credo che una delle delle cifre fondamentali del modo in cui è stato impostato l'agenda del green deal sia stato fin dall'inizio quello di comprendere che altre agende di integrazione economica avevano fallito perché non avevano preso in considerazione gli aspetti di equità e di impatto sociale e territoriale che queste agende creazione mercato interno prima e poi molto più forte l'euro avevano e quindi di essere stata incapace l'Europa di gestire poi la disparità e la diversità degli effetti la diseguaglianza dell'opportunità che vengono create da queste agende e di aver al contrario alimentato un risentimento una disaffezione e una distanza dappertutto quindi fin dall'inizio l'agenda del green deal fin dal dicembre 2019 quando abbiamo cominciato a lavorarci nasce con un'agenda che ha molto forte un aspetto di inclusione della dimensione territoriale e degli impatti socio-economici perché insieme all'agenda stessa abbiamo presentato da due o tre settimane di distanza il progetto di un just transition mechanism un meccanismo costituito al suo cuore anche di un fondo che abbiamo proposto per 40 miliardi di euro se mi sembra ricordare che questo l'ho ridotto a meno della metà 17,5 miliardi di euro che ha proprio l'obiettivo di assicurare che sia un'agenda che coinvolge e include tutti i territori europei quindi quello che volevamo evitare è che fosse proprio un'agenda dell'Europa centrale nord europea che fosse invece un'agenda per che creasse opportunità dovunque nel continente europeo e che soprattutto fin dall'inizio capisse che è una transizione ha un effetto di dislocazione e spesso di industrializzazione in alcune parti e regioni quindi fin dall'inizio questa dimensione è stata molto forte l'altra dimensione che poi è venuta in rilievo quando abbiamo presentato il primo pacchetto di 13 o 14 proposte legislative Fit for 55 nel luglio del 2020 è stata la dimensione dell'impatto regressivo rispetto ai diversi settori e segmenti della società e rispetto ai diversi tipi di consumatori di energia la nostra idea è stata che uno degli strumenti principali che abbiamo identificato per favorire la transizione era quello di un'estensione dei meccanismi di carbon pricing oltre al settore della generazione il settore iniziale a cui era stata applicata il sistema ETS deve essere esteso ad altri settori, al trasporto marittimo, completamente all'aviazione e poi soprattutto a trasporti e residenziali e buildings e una parte dei proventi di questa applicazione del sistema di carbon pricing verranno riciclati dentro quello che noi chiamiamo il Climate Social Fund che è un fondo che ha una serie di finalità precise di sostegno a tutti gli interventi a favore dell'efficienza energetica delle strutturazioni e in particolare il modo per limitare e attenuare l'impatto sociale l'altra grande fonte che ha... Per esempio lei si sentirebbe di caldeggiare o comunque approvare iniziative come quella presa dalla Germania di sostanzialmente permettere trasporti pubblici quasi gratuiti o con biglietti che costano pochissimo cioè è qualche cosa che se ne comincia anche qui in modo molto timido a discutere anche nel nostro paese qualcuno con varie accuse reciproche di populismo per chi ci prova, per chi lo fa adesso senza fare nomi direttamente però insomma è una delle... potrebbe essere una delle strade qualcuno l'ha intrapresa, mi piacerebbe capire per esempio che cosa ne pensa lei su questo Ma io su questo è una risposta obbligata perché la mia commissaria è stata dal Ministro dell'Economia e dell'Energia dell'Estonia quella che ha introdotto i trasporti gratuiti per i cittadini quindi lei mi direbbe devi rispondere insieme però le do una risposta diversa perché il primo punto che volevo fare con chiarezza era questo, le due elementi di forza dell'agenda del Green Deal sono il fatto che è stata fin dall'inizio pensata come un'agenda paneuropea e in secondo luogo come secondo me la prima più convincente agenda politica europea dal mercato interno e europeo, il più grande progetto paneuropeo che prende dall'inizio nella sua genesi l'idea dell'impatto territoriale, economico e sociale dentro queste politiche, quindi non fa solo un elemento di efficienza o un elemento di competitività, ha in sé un elemento di inclusione e di equità ma dentro questo sta il fatto che inizialmente qui forse è un elemento scomodo però vorrei tornare su un elemento che è avvenuto nella conversazione precedente e perché non è che ci vuole una guerra ma le agende politiche si creano in bilanciamenti diversi e a volte in prese di coscienza l'asse politico su cui nasce il Green Deal originariamente è un asse politico che parte anche da una crisi dell'industria manifetturiera del nord e del centro Europa nata dal Dieselgate, nata da una crisi durante la commissione è nata dal fatto che una gran parte di questa industria sta raggiungendo o si è resa conto che stava raggiungendo la fine di un ciclo produttivo la fine del depreciamento di tutta una serie di tecnologie e per le quali da un lato lo spiazzamento del Dieselgate la crisi reputazionale di una grossa fetta dell'industria manufattoria europea, nord e centrale dall'altro peraltro, dall'acciaio, altre industrie pesante la fine di un ciclo di tecnologia, la necessità di rinnovare con grandi investimenti, di fronte al momento in cui ricordatevi le polemiche sull'acciaio, USA, Cilina, eccetera ed Europa, chiaramente l'agenda del Green Deal è un'agenda di competitività per un'industria che vede il futuro sfumare rispetto alla competizione internazionale l'ondata verde dell'elezione europea non è un'ondata spagnola-italiana, non esisteva è un'ondata nord-europea, dalla Svezia, dai Baltici, eccetera quindi questo è il fatto terzo elemento policy driven in realtà, sì, però essendo un'asse su cui si crea un accordo tra le forze popolari, le forze socialdemocratiche in parte i liberali e poi esterni dà l'idea che questa deve essere un'agenda di grandi obiettivi di intervento e che se vuole essere così aggressiva sulle policy dare un segnale di risposta a una crisi esistenziale deve essere un'agenda che ha una coerenza interna assoluta e quindi è un'agenda anche fatta di esclusione e spostare questo equilibrio politico e farne diventare un equilibrio politico che passa dalla O alla E ha forse, purtroppo, ma forse nella logica di una politica continentale ha dovuto bisogno anche di qualche shock di qualche presa di realismo perché ovviamente in un dibattito interno c'erano voci che già andavano nei vari settori ma probabilmente queste voci senza questa presa di coscienza dell'importanza di certi temi noi probabilmente abbiamo detto che il nostro stream a nostro avviso non era un progetto di interesse europeo non era un progetto di sicurezza europea però credo se non fosse successo quello che è successo avremmo avuto i nostri due probabilmente certificato e attivo e quindi ha purtroppo questa logica difficile l'ultimo punto che volevo fare è facile dire i trasporti clean, sì però qui andiamo, secondo me, al cuore del problema dell'Europa di oggi e all'importanza dell'accordo del 19 dicembre scorso sul market correction mechanism sul price cap il problema della difficoltà di mantenere un'Europa unita intorno all'agenda risposta alla crisi è il fatto che abbiamo alcuni paesi europei che hanno diversificato sufficientemente le loro fonti di energia o il loro accesso ai combustibili fossili hanno però prezzi elevati ed hanno limitate capacità fiscali di risposta a livello nazionale e quindi hanno bisogno di strumenti europei di solidarietà abbiamo un'altra serie di paesi europei che non hanno diversificato abbastanza che sono ancora in difficoltà che hanno prezzi relativamente più contenuti perché possono sostenerli e mezzi finanziari e uno spazio fiscale molto ampio per poter rispondere e allora il motivo per cui noi, la mia commissaria alcuni di noi anche personalmente si sono spesi per un accordo il 19 dicembre non era solo per uno strumento che speriamo di non usare mai ma che speriamo possa avere comunque un effetto positivo di rasserenamento, di moderazione del mercato del gas ma perché riteniamo che l'idea di solidarietà nel fatto che tutti i paesi europei solo l'Ungheria si è un po' astenuta e capite perché è l'idea che questo diventa il punto di equilibrio in cui tutti accettano di contribuire a uno strumento di controllo di limite dei picchi di prezzo perché possiamo continuare con tutti gli altri strumenti di un'agenda che andrà bene agli uni e agli altri dare questo segnale di solidarietà secondo me perché vuol dire che i paesi che si possono permettere di quel prezzo prendono il rischio di un market correction mechanism che potrebbe limitare a loro l'accesso ai mercati questo secondo me è un altro segno che aiuterà a limitare la disaffezione e la reazione negativa dei cittadini verso l'Europa purtroppo lo scoglio più forte sarebbe quello di riuscire a evitare che i prezzi elevati restino e si cronicizzino per i prossimi due o tre anni a un punto insostenibile per le imprese europee però credo che sia una sfida piuttosto elusiva perché purtroppo come giustamente è stato ricordato molto dipende da dinamiche di offerta e domanda che sono molto molto difficili da cambiare sì anche da capire perché comunque quest'estate noi avevamo un gas che stava a 300 e qualcosa a 380 è giusto a 380 ricordavo bene euro adesso sta a 65 ma non è che noi vediamo un riflesso immediato sulle nostre bollette e quindi ovviamente no questo fa sì che resti diciamo così una sorta di diffidenza anche da quel punto di vista Nathalie io avrei un'ultima domanda da fare Descalzi Ingegner Descalzi no perché Nathalie ma lo dico anche a voi mi diceva ma potremmo anche accettare domande dal pubblico che è una cosa che non sempre si fa c'è una certa diffidenza ormai nell'accettare domande dal pubblico ma mi sembra che sia come dire una sala sufficientemente selezionata per non rischiare non la domanda difficile che ci mancherebbe ma il monopolio della discussione che talvolta accade quindi confidiamo in voi se avete qualche appunto domanda da fare e invece io c'era un'ultima cosa che volevo chiedere a Descalzi perché a un certo punto Nathalie appunto ragiona anche su come si possa poi immaginare di aiutare anche i paesi al di là del Mediterraneo una volta compiuta questa transizione e per esempio fa l'esempio della Libia o dell'Algeria che adesso sono paesi dai quali noi prendiamo o il petrolio o il gas o comunque insomma fonti delle quali il gas soprattutto il petrolio sia ormai un minuto fonti che appunto andranno prima o poi ad esaurirsi almeno in quello che è la nostra necessità e che cosa potremmo verosimilmente immaginare di poter fare per questi paesi perché appunto non risultino perdenti intanto penso che esauriranno prima loro il gas delle nostre necessità ah vabbè no diciamo che noi da anni lavoriamo su un qualcosa di molto più ampio che l'idracolburo noi siamo abbiamo messo come mission statement dell'ENI il 17 SDG della UN quindi diciamo l'accesso all'energia domestica è stata la prima cosa che abbiamo fatto ENI da circa il 70% circa del gas che produce ai paesi dove li produce quindi non lo esportiamo e associato a questo abbiamo fatto come l'avete visto in questo ultimo tempo ma noi lo facciamo dagli anni diciamo dagli 15 anni facciamo dei progetti di agricoltura progetti di rinnovabili abbiamo firmato recentemente con l'Algeria con con l'Algeria con con l'Egitto progetti anche sulla parte idrogeno idrogeno vea devo dire che loro diciamo all'inizio per necessità loro poi potrà anche essere esportato cosa un pochino più compressa quindi diciamo e poi tutta la parte di cattura della CO2 in tutte le attività industriali pesanti nelle quali è molto difficile andare verso un'elettrificazione quindi riuscire a lavorare con rinnovabili ma anche solo con una parte elettrica allora tutto questo lo stiamo studiando con loro ma lo stiamo studiando anche con i paesi in sul salariana noi lavoriamo nel solare in alcuni paesi per esempio il Congo dagli anni metà anni 90 abbiamo cominciato a installare i primi pannelli solari l'Algeria abbiamo sostituito su tutte le nostre attività operative quasi tutte adesso dovremmo andare anche sulle loro invece di utilizzare i gas per creare energia interna per le attività utilizzare rinnovabili sono dei diciamo dei risparmi importanti loro hanno la possibilità di esportarlo non è che lo mandano solo in Italia lo esportano quindi avere una currency forte per poter poi sviluppare internamente infrastrutture e altre cose ora questi discorsi come signora una domanda stiamo dicendo che viene di conoscere parte molti quali di 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 si questo problema no 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 è benissimo perché ho sentito ho capito l'interessante quindi ve l'ho chiesto io sento tutto fino a là questo udito pazzesco no questo questo discorso però lo dice ma cosa fate giustamente cosa fate allora quando no no io no ma io sono fatto così e io se fossi stato giornalista ma cosa fate e così la mette in difficoltà eh no sono opportunamente non sono il giornalista allora faccio io la domanda ma cosa fate no no allora cosa il discorso è quando si decide di dare il gas al domestico e non esportarlo oppure fare per le solare che non ti pagheranno mai perché non ti pagano energia devi fare una scelta cioè tu devi pensare di costruire qualcosa a lungo termine cioè fai la scelta di dire rinuncio a un po' di profitto o rinuncio anche a un bel po' di profitto in questi campi ma penso che facendo questo sto creando valore lo sto creando per il paese che mi ospita vogliamo ricordarci che siamo degli ospiti non siamo nessuno se non degli ospiti quindi via cioè massimo multare e via la faccia di quello che va lì a comandare io cerco di creare valore è chiaro che per creare valore il valore è lungo termine il profitto è breve termine ora questa deve essere parte della mentalità per poter poi lavorare in Africa perché altrimenti se non rispettiamo questa regola non rispettiamo gli africani e succede quello che è successo negli ultimi 40-50 anni che noi ci siamo sviluppati con le loro risorse loro sono lì l'Africa che rappresenta in percentuale di popolazione circa 16-17% quindi praticamente rappresenta tutti gli ospiti di canto tutti i paesi sviluppati hanno la stessa popolazione dell'Africa tutti i paesi sviluppati producono quanto il 50-60% dell'emissione l'Africa produce il 3% dell'emissione quindi andare a raccontare all'Africa che devono ridurre l'utilizzo del carburio del carbone quello che vuoi e devono andare verso le rinnovabili perché c'è un problema di climate change che loro stanno subendo molti più di noi bisogna stare attenti a dirglielo perché potrebbero anche arrabbiarsi quindi bisogna portarli verso nuove fonti di energia decarbonizzare quelle che stanno utilizzando e cercare di creare una cultura però mettendoci i soldi direttamente i fondi europei ce ne sono tanti c'era il famoso fondo da 150 miliardi da 15 poco la leva andava a 150 di 7 di 7 8 anni fa si è usato pochissimo perché dare obiettivi è importante mettere fondi è importante poi bisogna mettere a terra tutto questo attraverso delle fattibilità dei progetti coerenti dei leader industriali di quei progetti per loro non per il nostro interesse questo è quello che deve essere fatto comunque lo facciamo bene allora direi che noi ne abbiamo non siamo però ecco no ma infatti le presentazioni non devono durare troppo ci sono due mani alzate tre quattro basta no 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 spero che ci sia qualcuno che vi può portare un microfono ci sono eccoli lì ragazzi lì cominci da quello che le è più comodo non andi così grazie sono Paolo Serpi del Ministero degli Esteri vi vedo alcuni vecchi amici e ho semplicemente volevo essere testimone di un fatto di 15 anni fa in cui si cercava un nuovo mercato energetico più pulito che era il Turkmenistan si è cercato un'operazione di fare un'operazione di Green Deal in Turkmenistan e in Asia Centrale cercando di vendere nel senso positivo fargli accettare il nostro modello di distribuzione delle acque a livello europeo e direi che si è lì si rischiato di avere un bel esempio positivo in generale così non va e poi abbiamo visto che per quanto io ne so in Turkmenistan Turkmenistan che è uno dei maggiori esportatori produttori di petrolio al mondo lo esporta quasi totalmente verso la Cina e non più verso la Russia e il Green Deal con la nostra direttiva quadroacqua che volevamo trapiantare fra quei cinque paesi che distribuiscono risorse idriche a valle a monte e non sappiamo come è andato a finire il nostro tentativo ecco ma quello quindici anni fa fu e Claudio Escazzi allora fu testimone con me di questa questa bella operazione comunque non è poi in fondo andato in porto e credo che il limite della nostra operazione vedo qui anche Laura che era stata una bravissima direttrice generale in quel periodo e mi pilotava dalla base ecco era lei che questo questa fu una bella operazione però non riuscì ad andare in porto totalmente fondamentalmente per que quell'unione fra ricerca ai nuovi mercati e green deal europeo non è facile da realizzare e andrebbe realizzata con maggiore attenzione e maggiore ambizione grazie grazie mille il signore avanti a lei ecco questo lo prendiamo più come un racconto commento che è una domanda non so se c'è necessità no il signore con la camicia rosa ah è rossa oddio ecco Francesco Gottafavi sono già un dipendente io ero molto interessato a comprendere se è possibile realizzare quello che lei ha accennato appena mi sembra cioè di trovare una fonte di energia che potrebbe essere donata in qualche misura o facilitata l'uso dai paesi da parte dei paesi in via di sviluppo questa potrebbe essere una iniziativa di non grande spesa all'inizio perché potrebbe essere una ricerca su quale fonte di energia io credo che la fusione nucleare si presse a questo tipo di indagine se si riuscisse ad avere una fusione nucleare che produce come è possibile a bassissimo costo al momento attuale abbiamo alcune imprese americane che stanno investendo massicciamente in questo pensano di arrivare impianti entro un anno o due seguire questi eventi diciamo e vedere se è possibile trovare una modalità che ci consenta di regalare impianti futuri che poi potrebbero essere da 5 7 anni 10 anni ai paesi in via di sviluppo perché questo farebbe una trasformazione incredibile della politica nostra europea dei rapporti tra i vari paesi grazie vogliamo raccoglierne altre fare poi una risposta complessiva la signorina salve buonasera Barbara Di Silvio giornalista di agenzia Nova io ho una domanda per l'amministratore delegato De Scalzi oggi di transizione verde hanno parlato anche il presidente dell'Ucraina e il vicepresidente della commissione europea entrambi hanno convenuto sull'importanza di porre l'accento sulla transizione verde nella ricostruzione del paese dopo la guerra io vorrei sapere da lei in che misura l'Italia potrebbe contribuire all'obiettivo e se Eni intende attivare dei progetti a tal proposito grazie l'han detto oggi quindi mi sembra un po' prematuro chiedermelo dopo due ore di una cosa che non ho neanche ascoltato no diciamo che devo rispondere subito rispondo subito perché la collego anche all'altra risposta diciamo che onestamente impegni in Ucraina adesso mi sembra un pochino prematuro che l'Ucraina visto che ha detto il suo presidente l'ha detto anche la Fonderlein deve andare verso un'indipendente energetica a parte che loro hanno anche molto gas e possono svilupparlo purtroppo sono ormai da anni in una situazione difficile dal 2014 però che l'Ucraina adesso dovendo pensare a una ricostruzione che sarà di infrastruttura quindi parte praticamente da scratch possa pensare a una ricostruzione con un obiettivo di essere di decarbonizzarsi di andare verso il verde mi sembra una cosa assolutamente corretta bisogna capire quanto è lo spazio per i fotovoltaici in un paese che per parecchi mesi all'anno è coperto è innevato è freddo senza sole quanto è per l'eolico questo non glielo so dire adesso pensare ai seni il concetto è giusto è interessante e dovrà essere approfondito per quello che riguarda la mia società non ho una risposta onestamente se avessi una risposta sarei un pochino superficiale no c'era la domanda la fusione la fusione sta diventando ormai si studia da 50 anni come dell'idrogeno come altre cose adesso c'è stata un'accelerazione e perché le tecnologie soprattutto le tecnologie dei materiali hanno portato a riuscire a confinare il plasma che quindi è una un qualcosa che ha una temperatura anche molto 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 superiore cento volte superiore al sole e questo è un passo che abbiamo fatto noi come investitori nella società più avanzata che si chiama CFS nel 21 siamo i maggiori investitori di questa società a Boston che nasce da un nostro progetto all'interno dell'MIT quindi con l'MT investiamo da moltissimo tempo abbiamo cominciato a investire siamo stati la prima società oil and gas energetica in tranne della fusione e quindi abbiamo un prototipo del 25 un pilota del 25 e dovrebbe esserci la prima centrale all'inizio del 2030 poi dovrà essere dovrà essere diciamo dobbiamo muoversi sulla parte commerciale e industriale noi faremo la prima la faremo a Boston probabilmente le seconde in Inghilterra dove stiamo già lavorando speriamo in Italia ecco quello è una rivoluzione perché si fa con l'acqua l'acqua più alta anche l'acqua di mare perché bisogna praticamente dall'acqua si estraggono degli isotopi di idrogeno di euterio poi dopo si bombarda e il litio si può utilizzare avere il trizio sono due isotopi dell'idrogeno che insieme si fondono e producono questa immensa energia è chiaro che se l'energia invece di venire dal gas o dal sole che comunque costa o dal petrolio o dal carbone o dal nucleare viene dall'acqua cambia il mondo perché vuol dire come dicevo prima tutti hanno accesso all'acqua l'acqua si può portare quello che dice è una cosa direi molto interessante perché il mondo sviluppato potrebbe aiutare il mondo che è in via di sviluppo proprio per aiutarlo a staccarsi dagli idrocarburi investendo facendo proprio dei grandi dei doni investendo e facendo delle centrali a fusione come mettiamo 2030 40 50 sono modulari sono piccole quindi sono distribuibili si fanno degli abili energetici sono dei grid anche offline quindi molto circoscritti ma questo sarebbe il più grande regalo che potremmo fare all'umanità perché nessuno sarebbe più ricattabile quando l'acqua diventa la sorgente primaria temo che troveremo qualcos'altro per ricattarci però in effetti è una cosa meravigliosa no 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 ma era per non abbandonarci a facili entusiasmi altre due altre due no due domande tre però dovete essere mi raccomando abbiate eh sì esatto abbiamo anche delle scadenze Giorgio insegnante ormai pensionato e per il rappresentante della commissione europea visto che il problema dei sinteticamente dei nimbi riguarda il gas sul mona ma anche ovviamente il nucleare che per me è già presente no come fonte sicura e pulita eh volevo capire meglio se voi avete mh da quello che diceva forse l'ha già detto beh stare puntando alle politiche di maggior coinvolgimento della cittadinanza rispetto alle infrastrutture perché poi il problema italiano nostro è quello che ci opponiamo sostanzialmente a qualsiasi cosa magari riusciamo a produrre che ne so di energia nucleare per va bene il concetto io le farei rispondere rapidissimamente poi prendiamo le altre due le altre due domande noi siamo convinti che uno dei più grandi ostacoli al progresso delle energie pulite sia effettivamente la loro accettabilità o la o la resistenza che vengono dalle comunità locali e questo è evidentemente ancora più forte per altre forme tecnologie che non abbiate tutti in mente le difficoltà che sono state vissute per il collegamento TAP in Puglia o adesso per il progetto di rigassificatore flottante che c'è a Piubino e per noi la strada è ovviamente noi abbiamo cercato di attraverso addirittura tre proposte quest'anno di identificare dei percorsi di autorizzazione di semplificazione delle procedure amministrative di permesso per tutte le tecnologie rinnovabili che avessero conciliassero in modo diverso gli interessi ambientali e gli interessi energetici e facilitassero velocità e rapidità nei processi autorizzativi senza sacrificare interessi essenziali però l'altro elemento che abbiamo affrontato con linee guida best practices eccetera è proprio quello di come coinvolgere dei progetti le comunità locali attraverso diverse forme che permettano di comprendere le comunità locali che c'è un vantaggio per loro dall'accettare per esempio il sacrificio di un'installazione vicino a complessi abitativi o in alcune nelle zone costiere o altre zone anche nelle zone vicine a strutture abitative in modo che possano accettare questo sacrificio compensato da altri vantaggi l'altra strada che cerchiamo di far capire è che non è c'è una condanna non è necessario che le installazioni tecnologiche energetiche siano anche brutte o siano anche qualcosa che non può avere degli usi secondari associati che sono utili alla comunità noi abbiamo lanciato un'idea che vediamo ora che percorso farà però la sovrantendenza toscana aveva presa la lettera quando ha chiesto di che colore doveva essere il rigassificatore però noi abbiamo quest'idea che molte volte è stata fatta dell'impianto a Copenaghen di pianta Copenaghen su cui adesso si può perfino sciare e ci sono molti altri esempi in cui si può coniugare l'efficienza ingegneristica dell'installazione energetica con una gradevolezza architettonica e un'inclusione nell'ambiente circostante che favorisce anche in qualche modo l'accettabilità dei progetti allora c'è la signora con la giacca del pool grazie buonasera io sono Sheda Canepa sono corrispondente della NTV turca in Italia e volevo fare una domanda all'instituto del delegato che noi ci siamo conosciti venti anni fa l'inaugurazione di Bluestream in Turchia quando c'era Mincato sì avevate dei rapporti eccellenti con la Turchia ai tempi adesso considerando la situazione la Turchia si propone come un hub energetico dopo l'accordo con la Russia nei prossimi anni la situazione di Mediterraneo per trivellazione e la situazione in Libia tutte queste situazioni riguardo da vicino l'ENI i rapporti con la Turchia come sono rispetto anni passati o con gli sviluppi che adesso arrivano che ci saranno le lezioni probabilmente anticipato come sapeva benissimo la direttrice che segue benissimo la Turchia grandissima esperto quindi se vuole aggiungere anche qualcosa sull'argomento e di cui fra l'altro si parla moltissimo nel libro di Turchia e quindi glielo glielo consiglio io direi di sentire anche l'altra domanda che c'era così poi chiudiamo ah sì 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 no no va bene va bene va bene ha ceduto ma come come sta no vabbè confidiamo nella vostra sintesi via io lavoro in finanza a Londra volevo una Leni userà le enormi competenze che avete dentro la Samimma ad esempio per lavorare insieme a Eitero Materials dato che in Eitero Materials della Commissione Europea c'è l'Enel però ci domandiamo tutti visto le vostre enormi capacità perché non ci state anche voi ultima domanda però ci risponderò che non so niente non ci credo no io sono Gianniere sono un ingegnere elettronico presidente di una società che la pensa non ha fatto proiezioni no ha parlato delle limitate ingegnere però faccia una domanda una curiosità lei sa che cos'è il GWT te lo duca te lo duca trova buoni potenti quindi da applicare le metano ah le fuggitivi di metano sta parlando beh questa è una delle cose più importanti per noi perché non c'è non c'è gas se non si parla con se non si parla di fuggitivi di metano comunque noi abbiamo più di 2 giga abbiamo fino a 10 giga di rinnovabili quindi non è che non ci credo visto che ci ho messo 7 miliardi forse più di altri ci ho messo quindi allora Turchia no andiamo d'accordo con la Turchia benissimo non sono problemi non è che abbiamo non abbiamo tante attività insieme non abbiamo tante attività non abbiamo tante attività in Turchia e non abbiamo tante attività in comune per il momento perché come ho detto che poi in futuro non ci siano quindi direi che non vedo non vedo problemi anche a collaborare e lavorare insieme ci sono anche delle idee delle proposte però nulla di di concreto no per la per diciamo con la comunità europea noi lavoriamo ovviamente per la domanda collaboriamo direi che però siamo una società privata ci sono delle istituzioni quindi quando c'è necessità si lavora insieme però non abbiamo gente dislocata che che lavora con però diciamo che c'è una buona collaborazione e si parla e si lavora insieme sempre assolutamente e come ha detto prima diciamo che la comunità europea è sempre più attenta agli stakeholders a sentire tutti e questo è un fatto estremamente positivo ed è un fatto che apprezziamo anche molto bene signori spero che siate soddisfatti che non ci siano altri interrogativi che sono rimasti sospesi volevate no basta possiamo chiudere e soprattutto possiamo consigliarvi appunto la lettura di questo libro che approfondirà ulteriormente molte delle cose di cui abbiamo parlato questa sera e vi darà invece cifre e dati perché è anche pieno di schemi insomma è interessante un po' Grazie a tutti.